ahahah dove sei andato? niente era una battletower ma non c'ho voglia di farlo vabbè andiamo, andiamo dai va anche giù questa, va sia su giù che su no noi andiamo solo su eeeh no queste sono le scariche vanno giù le quelle che vanno su sono dall'altra parte si è vero si presume ci da un, più che altro queste sono utili per l'esperienza, facciamo una giù e una su cioè tu vai giù e io vado su? si che bello le torce che si pagano che bello fare le battletower di giorno, non spawna niente ah te si perché sei sotto terra quando hai finito vieni giù a darmi la mano mhm wheat bone egg sono arrivato in cima eeeh e sono al livello 20 21 wow tutto sto casino con queste cose si non è che ne valga proprio la pena di fare sti battle tower che è ok ti da qualcosa di utile ma non basta sono arrivato alla fine non mi ha dato niente davvero? mi ha dato ah ri aspetta mia dove all'inizio e guardami ok fammi il tempo di scendere scendo in modalità veloce io ah città no uso la dove sei? uso una cascata d'acqua guardami aspetta fammi scendere ah 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 ti giuro che io non ho incontrato nessuno invece ti regalo questo che è finito in acqua e questi? non darmi roba inutile questo questo ok perché l'acqua non sta scendendo? ok andiamo da che parte abbiamo detto di qua andiamo di qua va bene cibo ne ho ho tipo recuperato sei panini e io di cibo ho una mela e questa è una cosa una caverna cosa ah già non stiamo andando verso il mare dunque no stiamo andando verso le caverne e andiamo verso le caverne morie che va verso il basso e finisce qua no niente alza caverna io ho preso l'iron bravo qui ce n'è altro te lo sei perso eh lo so ma stavi andando giù diretto quindi non volevo non volevo toglierti il divertimento di qua non ci sono andato vado a vedere oh qua va giù cos'è è un dungeon di zombie con dentro una name tag e una name tag una via spagnolo mio e una seddolo oh tutta qua oh ah ma ah ma gesù che spavento c'è un altro cd cosa pensavi che fosse un altro giocatore madonna sii ma qualcosa di strano che si fa no allora sul server siamo solo noi due e lo so ma vai a dire al mio cuore al tuo cuore dai non c'è nient'altro qua sì ma io lo spawner lo distruggo e mi prendo l'esperienza ma prendi un po' più vuoi ah stavo cercando di uscire rimasto bloccato in un buco io avevo tipo 27 frecce non ne ho più neanche una ah ne ho 12 ah se me le passi ho l'arco diciamo anche ho l'arco diciamo metà vuoi del fuoco? perché del fuoco? un due tre tre per volta ok grazie di qua no di qua non ci siamo già andati ma di qua no va giù no scherzo non vado a nessuna parte fa il giro vabbè usciamo di qua dato che ci siamo ok allora chiesta iron shovel con efficient tu hai hai shovel no io ho iron axe con sharpness ce l'hai la shovel? si ce l'ho ce l'ho ok al posto no perché ce n'avevo uno in più io proverei qua va bene uh questa va giù tantissimo hai visto dove sono andato? aia aia dove sei andato? davanti ma sei sceso dove sono sceso io? si ah si ho messo la torcia ho trovato meteorite coal e del sapphire ooooh a me piace questa oddio abbiamo trovato una mineshaft chi? le 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 miniere abbandonate di qua aspetta oh c'è la za zafire come si chiama? zafite quello giallo ah si prendilo io sto prendendo un po' di meteorite qua oh altre due gemme quindi volendo potrei farmi un'altra spada anzi la faccio hai una crafting table? c'ho il legno puoi fare una crafting table? no ok no dove sei? vieni qua qua eh potresti anche piazzarla no no troppo lavoro ue ue andiamoci piano con le cose c'è un sacco di merda che non mi serve io lo butto giù di qua tipo dirt tipo questa stone sword iron sword no i bon mi servono grass block lo voglio tenere questi va bene posso tenere quanti voglio allora di qua oggi su sono volato giù ok non ne ho più oh ho trovato il rubino anch'io no non è rubino scherzo è full ruby ah si anch'io ma mi sembra che si può fare rubino da full ruby si 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 9 di quelli ah ragna full ruby ah qua c'è un po' di roba no dal full ruby non si può fare niente si può fare full 0 da full ruby si fa al full ruby ma non serve a niente la faccia ho trovato una una mine un buco cioè la 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 frattura nel terreno arrivo eh che ho trovato un sacco di minerali qua si si no vai tranquillo al massimo mi teleporto no sto prendendo anch'io dove sei tu tanto poi ma li sto prendendo il dritto di là io il corno lo prendo mi rifiuto eh va giù si 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 eccomi qua uh ho trovato qualcuno che sfonda una porta perchè c'è dovrebbe essere una porta non lo so ho trovato un bel po' di meteorite ho trovato dell'altro ruby è sempre full vai a dire quello blu non lo vuoi quello blu? no non è abbastanza buono è un ottimo cosa al posto del oddio metterete gemne o una io? io ce ne ho due se vuoi farti la spada te ne do una no no mi piace questa qui il giallo è il tuo nome dimmi il tuo nome sto cercando lo zombie ma penso di essere vicino oro ho trovato dell'oro forse si ho trovato dell'oro che si mina col copper molto bene continuo a sentire sto zombie anch'io ma mi sa che è sopra roba gialla dietro di te eh ho visto visto un'altra roba gialla mi sa che è sopra io voglio farmi l'armatura completamente gialla è forte eh lo so però per farla devo trovare un bel po' di roba gialla io ne ho trovati tre meteorite ne ho trovati tre e mi faccio la picca perché quella gialla io ce l'ho incantata ah potrei fare la picca anche rossa no aspetta l'avevo già provata non mina niente giù di qua sei andato e andiamo nella fenditura dove hai detto tu ah di cui sei andato qua sotto si si ok allora di qua si 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 è sopra ne ho la certezza i qui io ti vedo un po' laggare ti vedo scatti che sui scivi eccolo qua ecca là andiamo oddio stavo volando giù io sono volato giù perché mi hai spinto no però sono finito nell'acqua tu esplori un po' qui io volevo andare un po' più in profondità a vedere se trovo qualcosa di utile oltre a bloccare quest'acqua che rompe le palle ho trovato dell'oro oro normale ah si anch'io ma penso che sia l'oggetto più inutile qua dentro peggio del full gem puoi farti un orologio ah no devo farmi il monocolo ecco cosa mi devo fare non credo che ci sia c'è il monocolo Ari davvero c'è il monocolo davvero? c'è la lava tu dove sei andato? monocolo oddio c'è veramente il monocolo e non ci vuole un cazzo per farlo ma cosa serve? è oro e il vetro no a cosa serve? ah niente sei su sei yolo ehi ho trovato altro a meteorite e quella roba verde che non si può minare si aspetta no non si può con quello giallo? no ce l'ho io e ti ho provato ce l'ho ma non funziona allora serve quello rosa e ma non ne abbiamo ancora trovato neanche una e da un po' che non incontro un mob ehi perché c'è una crafting table qua? ero messo io alla faccia quanta lava vedo del diamante là in fondo questo c'è il diamante ah anche qui sopra c'è del diamante lo vedi? si però non possiamo prenderlo con quella gialla? no almeno a me non funzionava si forse con quella rossa di meteorite può essere ehi una roba bianca oddio mi hai fatto prendere ah questo è ancora peggio peggio del diamante e peggio di tutti questo qui non lo mini con niente no infatti non si mina devo divinare con quello verde questo e il diamante con cosa lo mini? con quello rosa se non mi sbaglio vorrei dirti una cavolata non mi sembra quello rosa ah ah ok cazzo di full ruby ma non c'è un ruby normale ne ho trovati due io ah quindi un altro potresti farti la picca si ma non è buona non lo so non mi ricordo ah no questo è il resto ma qui è pieno di diamanti eh si pensa che il minecraft è normale cosa che mi sta attaccando? io sono solo un s oddio ari oddio cos'è che c'è che mi sta attaccando? quello lì dentro che è morto ahia guarda sopra di te sopra ok non vedo niente è pieno di gemme eh ok ma non vedo niente oltre alle gemme ah no niente io dicevo quelle e basta che c'hai della lava blocchi di lava la vedi lì? lava me la prendo anche dietro era di te eh via questo eh mi sa che tipo uno di quei cosi che lanciano i blocchi è finito eh si si è in acqua si si è quello lì infatti l'ho visto morire è cominciato a tirarmi la roba non capivo da dove arrivava là in fondo vedo una roba viola dove? in fondo vai avanti cerca di torcificare eh posso fare eh qui cazzo c'è il corridoio di lava io non c'ho più l'acqua vai 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 aspetto che tu arrivai arrivai un po' più avanti perché non voglio rischiare di morire ah la vedo la vedo la vedo la vedo quella si può minare il diamante con quella? no perché se si può minare siamo a cavallo hai inguardato quanto diamante c'è qua attorno si ma è inutile il diamante come è inutile? armatura di diamante ma penso sia meglio per la... vai adesso no no niente non si può minare che merda con che cosa si può minare la roba? eh te l'ho detto che è un casino scusè pick pickaxe allora pickaxe c'è tipo sapphire adamite ruby eh dove andiamo i ruby si fa ruby poi zectium che è quello verde poi tapazite che è quello viola e poi crystal che è quello la bianco che dicevi tu questo è quello verde che l'ho trovato qua eh però ci serve prima quell'altro qua c'è il rosa ci serve prima quello rosso vedo una luce quello fatto di veri ruby eh si ce ne ho due no ne ho quattro ne ho quattro figa metti subito giù la cosa e cominciamo a raccogliere via allora questo dove ti presi? e dopo non lo so fammi buttare via un po' di roba non lo so prima ne avevo tre cioè due adesso ne ho quattro non mi dire come va bene la via quella di copper io butto via la saddle si allora il diamante si si prende benissimo con questa qui ok raccogli un po' di diamante almeno tre che così no raccoglio si 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 adesso te lo do e poi possiamo andare avanti così no? ce l'hai il legno? si ce l'ho ce l'ho tieni sei ottimo ok si va a picconare in giro questo qua rosa? no neanche col diamante neanche col diamante va bene allora però dobbiamo buttare via le string ah ho capito tra i full ruby ogni tanto si trova un ruby normale ne ho trovati due adesso vado a prendere altro diamante tutto col diamante che c'è qua sopra col diamante? con come beh penso che il diamante col diamante no il diamante si 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 no dico col diamante cosa posso? col diamante cosa puoi? penso quello verde in teoria o quello rosa no quello rosa non ho provato io so quello che col diamante allora quello verde che è qua si quello verde tranquillamente prepara una una cosa per cuocere si diciamo un punto base qua guarda dove c'è la crafting dove vuoi punto base almeno ci ritroviamo qua faccio qualcosa cosa lì come si chiede facciamole un po' faccio anche un paio di fornaci faccio anche una cesta almeno un paio di fornaci perché se no ahiabha eccomi qua sono arrivato in volo aspetta mettiamole qua facciamo anche la bella ok messo a cuocere se non mi sbaglio ce n'era altro di verde qua in zona non mi ricordo dove l'avevo visto forse qua in alto tanto quelli lì sono a cuocere sono otto quindi dovrebbe essere casomai quando finisce fai una picca per entrambi così poi possiamo andare a minare quel rosa che c'è lì più avanti e ce n'erò un po' anche qua indietro mi pare e con rosa possiamo minare il bianco penso ovvio questa do farmi la ah mi sto perdendo cos'è che stai facendo con la verde ok prendo con la verde vado a fare 1,2,3 si io l'ho già fatta ok in frattempo e ho minato il rosa e quello rosa ti permette di prendere quello bianco si spera che è il cristallo se non mi sbaglio una roba del genere si cristallo allora 3 di tappazzite li ho presi anche a me serve una cesta dove poter mettere tutta sta roba mettele lì mettele lì aspetta oppure te la faccio aspetta aspetta te la faccio no ma ce l'ho già ce l'ho già ce l'ho già questa è mia perché metti le cose qua dentro chi se ne frega va bene lo stesso poi ci dividiamo tutti ma chi se ne frega va bene così tanto è roba da bollire faccio più grande aspetta e non ci sta più niente e aspetta l'altro allora ho preso ho fatto la piccarosa vado a piccare il cristallo e dovrebbe essere l'ultimo cioè quello più forte il cristallo si il cristallo è quello più forte è qua allora questo no è mio questo è mio che mi servono adesso questa anche questo ne metto ovvio quanti metteri ho madonna 35 metteri c'è bisogno che facciamo la picca di cristallo o no? no io ne ho piccati 4 posso fare 2 spade potrebbero essere più utili no? di quelli lì di cristallo di cristallo quelle più forti hanno 10 di attacco contro le 5 di meteorite quindi è doppio della potenza più si possono inciantare eh dai sì 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 vai fanno allora questa tieni questa è tua la lancio questa è mia allora io ho una piccarosa tu invece non hai una piccarosa c'è cioccolare verde dobbiamo trovarti una piccarosa così puoi minare tutto c'è l'armatura intanto sì in effetti io mi faccio l'armatura di diamante ehm mi fai anche i boots di diamante non so se ce ne sono abbastanza solo i boots sì 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 ce ne sono bene le fatti tieni io ho fatto la chestplate e le scarpe vediamo un altro materiale un po' strano vediamo un altro materiale